Lutto nel mondo del giornalismo campano, è morta all'età di 49 anni Valeria Desposito Fatali le complicazioni dovute all'infezione da Covid-19, che non le hanno lasciato scampo Casertana, era il volto noto del portale WebVisit Campania nonché famosa blogger seguita in tutta Proprio i suoi articoli dalla campagna avevano fatto conoscere ed apprezzare diverse località e non solo di tutta la regione anche al di fuori dei confini regionali Solo lo scorso 15 febbraio, Valeria Desposito aveva compiuto 49 anni, nei giorni scorsi, ha contratto il coronavirus che quest'oggi l'ha uccisa, ennesima vittima di una regione che conta ormai oltre 4 500 morti da inizio pandemia. In tanti, soprattutto amici e follower, l'hanno ricordata in queste ore, dopo che la notizia della sua morte ha iniziato a circolare sul web Sono rimasto di sale, eri una bellissima persona, collega in gamba e amabile col tuo bellissimo blog ed una amica, si legge tra i vari post di Cordoglio Un'altra cicatrice sul mio cuore portata da questo maledetto virus, scrive invece un'altra amica di Valeria Desposito Ma anche nel mondo della ristorazione il combiato è enorme, senza parole. Oggi è venuta a mancare, per il maledetto Covid, Valeria Desposito di Visit Campania In questi anni, scrive il noto ristorante Casertano Pizzeria d'Oro Gourmet, era stata tante volte in pizzeria e tante volte ne aveva scritto, in questa foto da noi con tanti suoi colleghi a Sant'Antuono di un anno fa, bionda e sorridente, un abbraccio al marito Mario E così la dobbiamo ricordare, col sorriso e col racconto delle cose belle della nostra terra, si legge nel post Facebook che accompagna la foto di Valeria Desposito all'interno del locale Ti potrebbe anche interessare, pubblicato il 9 marzo 2021 alle ore 07, 26. Ultima modifica il 9 marzo 2021 alle ore 07, 26 Autore dei Sottotitoli e revisione a cura di QTSS